Diciamo, l'universo ha una storia, è enorme l'universo intorno a noi, ci perdiamo tutti nel solo pensare quanto sia grande, però questa storia nasce forse non proprio da un punto matematico, così come si dice il Big Bang è un punto matematico e quindi probabilmente è una ricostruzione artificiale di quello che è realmente accaduto, ma certamente da una regione di spazio molto piccola. Le condizioni di questa regione di spazio ai suoi albori, quindi estremamente piccole, erano di temperature altissime e quindi di energie medie delle particelle tanto alti, maggiori di quelle che si possono produrre agli acceleratori. Quindi per capire la fauna che ha abitato l'universo quando è nato, è necessario andare a riprodurre delle condizioni di energia localmente molto alta, quasi quanto l'aveva l'universo quando è nato. È chiaro che le energie quante può produrre l'universo sono un po' al di là della nostra concezione. Per questo studiamo anche gli acceleratori dell'universo, cioè quelli che producono fasci di particelle, di energie che non potremo mai raggiungere per capire cosa succede nelle loro, in questi fasci. La differenza forte è che mentre quello dell'universo noi dobbiamo prendere quello che ci arriva, quelli a terra invece sono prodotti artificialmente e quindi possiamo riprodurre n volte le cose che stiamo studiando, invece dell'universo prendiamo quello che arriva una volta sola.